Questa per me vale come confessione, ispettore, l'abbiamo trovata! Oh, si calma, agente! No, è giunto il momento di sbirro buono o sbirro cattivo. Anzi, a pensarci bene lo sbirro buono non servirà a nulla. Agente, si calmi! Mandi la sigla, ispettore, qui andrà per le lunghe... Sigla. Non assi, agente, sta collaborando! Mi hanno sempre detto che fare un tatuaggio fa molto male, ma io non sento nulla. Buonasera, signorina. Mi dispiace interrompere il suo spettacolo. Maledetto indiano! Ancora tu? Sei venuto qua per un'altra lezione? No, io avrei ancora bruciore, ma io credo normale dopo fuori state con ortica su parti intime. L'indiano ama infiltrarsi nei miei spettacoli senza pagare. Così ogni tanto lo metto in riga. È clandestino, mica può denunciarmi. Signorina, siamo della polizia. Oh beh, se sperate di avere un trattamento di cortesia, solo per il fatto che indossate una divisa, ecco, vi sbagliate di grosso. Senta, signorina, questa divisa ci impone di essere lici al dovere e assolutamente incorruttivi. Agente, l'ho riconosciuta solo ora dalla voce. Ci conosciamo? Non proprio, sa. Era una di quelle che l'altra sera stavano dietro. Forse l'indiano può tornarci utile. Devo interrogarlo, ispettore. Magari prima ci provo io. Signor indiano, non ha mai visto quella ballerina in atteggiamenti strani? Lei intende come quella volta con un grosso asino? E ora, con l'utilizzo di potenti mezzi tecnologici, cambieremo il scenografio in un istante. E lei, lo spazzino di Palasville? Come? Io ho dato una cosa a te e te non dai una cosa a me? Ha ragione, si tenga pure l'indiano. Quale indiano? Maledetti i detecchi, avete tramortito me? Oh, povero piccolo, fammi vedere se ti hanno fatto male che ti diamo subito un bel bacetto. Stare tranquillo, io starei bene. Senti, piccolo palasita, ora io abuserò di te e tu non direi niente a nessuno. Quali biglietti d'amore? Questi biglietti d'amore. E tu non metti tra i due figli, guarda. Suora, eravamo ad un passo a scoprire l'assassino di Sparsville. Sono confuso, Ispettore. Fallo, dai. Che abrisciano. Suora, eravamo ad un passo dalla strada. Suora, che spidato. Sorella, a me di... Wella, sorella. Sorella, mi chiami se dovessi aver bisogno di qualcuno. Ispettore, io credo che stia dicendo Quindi è lei che ha ucciso quelle ragazze da profanatrofio? Un c***o, di nuovo. Gianni, fai un passo indietro? Rifalla. Già. Già.